LUCIANA CIVICO Per tuffarsi Luciana saluta il suo maestro Raimondo Bucher, è stato lui a insegnarle la tecnica dell'immersione. Vuole dimostrare che la pesca subacquea non è pericolosa, purché siano rispettate alcune regole fondamentali e non vi siano pescicani nei dintorni. Luciana torna alla superficie con il cartellino strappato all'apposito cavo. 80 metri ha battuto il record mondiale. Da quando ha cominciato ad infilare la tuta di gomma, sono passati esattamente 27 minuti.